Un argomento importante è quello del cinema, un'industria naturalmente che deve in qualche modo recuperare un gap che è mancato in questo periodo purtroppo lungo e che ha trovato un'iniziativa molto interessante proprio nella nostra regione. Ascoltiamo. Il settore dell'intrattenimento sta pagando un prezzo altissimo per l'emergenza coronavirus con una stima delle perdite dato il perdurare della chiusura pari al 100%. Riaprire con troppi condizionamenti distanza tra il pubblico, chiusura dei bar e delle attività interne vuol dire mettere altri ostacoli tra il cinema e il pubblico, nel non immediato cammino verso la riconquista della fiducia da parte degli spettatori, oltre che la riappropriazione degli spazi di aggregazione collaterale alle sale. Da questa situazione si origina il disagio della categoria. È partita così la caserta all'iniziativa di Silvestro Marino, produttore e proprietario del multisala Dual Village, che ha riunito la categoria degli esercenti delle sale in un tavolo operativo per arrivare ad una proposta concreta da sottoporre alla regione e al governo. 43 gestori di sale si sono così riuniti nella costituenda sezione campana dell'Unione esercenti cinematografici. Quello che chiedono a gran voce gli imprenditori del settore è un tavolo di concertazione con le istituzioni al fine di non dover chiudere per poter ripartire sin sicurezza ma ad adeguate condizioni che rivedano, oltre al riconoscimento più esteso del tax credit ed un'estensione temporale della cassa integrazione almeno fino al 31 ottobre, un sostegno di liquidità per le scorte dei bar tutte scadute, alcune linee guida sul distanziamento in sala, fino all'apertura dell'arena estive, degli anfiteatri, trasformando i cineforum in rassegni e festival ad hoc. Quel che è certo è che è necessario ripartire ma serve sintonia tra istituzioni, imprenditori del settore e associazioni per rilanciarsi sul mercato, un'azione da promuovere in modo coordinato e con un prodotto il più possibile significativo, tutti dovranno fare la loro parte.